Che deve far di questa nostra servizia? È molto spiritosa, la nostra. Quella è alquanto schizzignosa. E così, donnevo il tabacco. Si serva. A te. Se ne avranno in estasi, sto fagliolo, dovendoci. Se ne amano, vederci avranno, caro. Che bello siete voi. Ma lei è bello ancora. Grazie infinite. Dire il contrario, a lei sarebbe un snack. E così, donnevo il tabacco. Si serva. Mi gusteggia. Lo comandà. Obligé. Noi fare le nozze adunque in breve tutto un tempo. Sì, signore. Le mie, le vostre, le quelle dell'unione. Sì, don Pietro, mi dice la sianena, uscì alla compiatisca, perché mo' a faccià non se va. E se lo cario, manda a dirla si Lucrezia che la sposate, perché deve che fa e non se va faccià. E buon brode in città c'è sanità, ma non c'è un certo. Poter di bacco, che ve ne pare. Donnevo il tabacco, spassam c'è noi frate. Che sa da fare? Bisogna compatire le donne, poverette. Spesso spanno con gli affari di casa. Ma noi altri innamorati fofosi. Sì, navimmo le innamorate bronte. Pernoboni, facimmi tutta un monte. Ah, non sono questi sensi degni di sua bontà. Lei dica, nena, che mai? Lasciate un poco, che ci pensi. E dirà che il suo vado Stato franco, spesso intervolato intervolato Per poter la baghezza, baghezza Poi restato freddo, freddo Qualcum avevo Impadato, impadato Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.